Il Casale dei Collinari è una costruzione colonica caratterizzata da un'architettura tipica delle ville di campagna della zona. Questa tenuta, dotata di un vasto parco, vi consentirà di ambientare le vostre nozze in uno scenario di rara bellezza, circondato dal bellissimo paesaggio collinare intorno a Benevento e da una tranquilla atmosfera. In seguito a un'accurata opera di restauro degli spazi interni della struttura, i proprietari vi offrono la possibilità di ambientare i momenti più belli della vostra vita nelle sale eleganti e arredate con gusto. In questo scenario vi sembrerà di vivere fuori dal tempo e, nei periodi più caldi dell'anno, potrete approfittare del suggestivo spazio esterno, dotato di un vasto prato e di una romantica aria intorno alla piscina. I gestori della tenuta saranno lieti di seguirvi nella progettazione dell'evento e metteranno a vostra disposizione tutti i servizi di cui è dotata la location, in modo che, con la collaborazione di un team di esperti, possiate dar vita a un evento spettacolare e indimenticabile, esattamente come avete sempre sognato. La cucina è legata alle ricette tradizionali del territorio, ma con un occhio verso l'innovazione e la sperimentazione. Gli chef saranno a vostra disposizione per creare insieme il menu nuziale che più vi possa rispecchiare. Il tutto verrà realizzato con prodotti genuini e materie prime sapientemente selezionate, proprio per garantire l'eccellenza della proposta culinaria.